Buongiorno a tutte e a tutti. Eventi meteorologici intensi ottobre 2024. Nel corso del mese di ottobre 2024 si sono sviluppati due eventi alluvionali che hanno messo a dura prova il nostro territorio. Un territorio problematico da gestire con due torrenti che attraversano la vallata, una importante estensione territoriale di circa 50 km quadrati, con due realtà cittadine, Quigliano e Valeggia, tre frazioni più montane, Cadibona, Montagna e Roviasca, e una numerosa serie di borgate con le relative strade e infrastrutture funzionali alla viabilità minore, realizzate al servizio di una residenzialità diffusa e sparsa. Rispetto alle emergenze sviluppate nel 2019 e nel 2021 e ai conseguenti lavori realizzati, i danni subiti in questi giorni derivano da nuove criticità. Ammontano al totale di 2 milioni e 722 mila euro i danni stimati sul territorio comunale di Quigliano, in conseguenza degli eventi alluvionali sviluppati sia nelle giornate del 16 e 17 ottobre 2024, sia in quelle successive del 26 e 27 ottobre. E nel frattempo sono stati avviati gli interventi di prima emergenza con un totale complessivo di euro 92.367,54, interamente finanziati con fondi comunali. Abbiamo già richiesto alla Regione Liguria di includere anche Quigliano tra i comuni colpiti dell'alluvione di ottobre 2024 ai fini del riconoscimento dello stato di calamità naturale che deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri. E abbiamo già inserito sul portale regionale tutte le schede riferite agli interventi urgenti che necessitano del finanziamento con i fondi della Protezione Civile Nazionale, al fine di dare avvio a tutti i lavori che interessano diverse località del nostro territorio. Granaccia e Rossi di Liguria è iniziata ieri la 19esima edizione, l'evento Granaccia e Rossi di Liguria. L'appuntamento a livello regionale è sviluppato in tre giornate, da venerdì 15 novembre a domenica 17 novembre 2024, con una masterclass al mattino su invito, per poi proseguire con l'apertura dei banchi di assaggio dalle ore 14 alle ore 19. Esposizione e degustazione collettiva aperta alle dette ai lavori e al pubblico. Il programma e le informazioni complete sono consultabili sul sito istituzionale di Quiglià. Per info e prenotazioni, vita in riviera, info chiocciolaviteinriviera.it, telefono 366 872 6643, info città di Quigliano, settore cultura e mail servizi.cittadino-comune.quigliano.sv.it. Scopri con il file Villa Maria. In occasione della rassegna Granaccia e Rossi di Liguria è possibile scoprire Villa Maria, elegante e dimora ottocentesca, circondata da uno splendido giardino, situata nel cuore di Quigliano, in piazza Costituzione, recentemente ristorata e riaperta al pubblico. Le visite accompagnate dai volontari file sono organizzate oggi, sabato 16 novembre, nei seguenti orari 15, 15.30, 16, 16.30. Le prenotazioni sono sold out. Evento realizzato grazie alla collaborazione tra Fai e la città di Quiglià. Le imbambolate. Presso Villa Maria, la mostra personale di Grazia a Ghisolfo. La mostra sarà visitabile nel pomeriggio di oggi, dalle ore 15 alle ore 17, per chi ha prenotato le visite guidate con Fai Gioveni Savone. Domenica, 17 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 17, a ingresso libero. Carovana della prevenzione. Si ricorda che oggi, 16 novembre, in piazza Costituzione Quigliano, dalle ore 9 alle ore 15, si svolgerà iniziativa la Carovana della prevenzione, proposta dell'associazione Comen con il sostegno di Sarpon. Una giornata di promozione della salute con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno. Risolvate le donne fuori screening regionale. Mammografia per donne fa 40 e 49 anni. E over 70, ecografia senologica donne under 40. Postazione AS, Dipartimento Cure Primarie. Grazie alla collaborazione del dottor Alberto Cella, direttore del distretto sanitario Savonese, della dottoressa Emanuela Alice, coordinatrice Cure Domiciliari, oggi, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Costituzione Lato, Palazzetto dello Sport, ci sarà la presenza di infermieri di comunità e delle cure domiciliari che saranno a disposizione per illustrare i servizi che l'ASA offre sul territorio e per la misurazione di pressione arteriosa, glicemia e saturazione dell'ossigeno a disposizione della cittadinanza. Qui letteratura ragazzi. Gli appuntamenti si daranno presso la sala consigliare in collaborazione con la Biblioteca Civica di Quigliano ad ingresso libero, ricordo il prossimo appuntamento di sabato 23 novembre, alle ore 16, associazione Insoliti Inclusione Sociale e Lavorativa APS, laboratorio creativo di Digitopultura e Boulon, Art per bambini e presentazione del libro Io, Tu, Noi, un'insolita storia di inclusione. Per informazioni e prenotazioni Ufficio Cultura telefono 019 2511 e mail servizi.cittadino chiocciolacomune.quigliano.sv.it Ricevimento pubblico del Sindaco a Roviasca. Si informano i cittadini che non riceverò il pubblico presso il recapito di Roviasca mercoledì 20 novembre 2024 per i concomitanti impegni istituzionali. Sarò presente il mercoledì successivo, 27 novembre 2024. Proclamazioni elette organo di rappresentanza del Comitato di Frazione di Cadibona. Domenica 10 novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell'organo di rappresentanza del Comitato di Frazione presso i locali di Cadifugio. Sono stati programmati eletti nell'organo di rappresentanza per il Comitato di Frazione di Cadibona, delegato Siri e Siri Simona, vice delegato Valle Massimo, componente Canesi Fabio. Buon fine settimana a tutte e a tutti.